Salve a tutti ragazzi, come qua con un'altra partita multiplayer di Call of Duty 4 Modern Warfare E vediamo, vediamo, vediamo cosa possiamo fare in questa partita Perché la partita precedente purtroppo ci è andata molto, ma molto male Ci sono trovati con un gran gruppo di campers E adesso vediamo cosa possiamo fare In questo momento mi trovo con la M16 se non sbaglio in questo momento La M16 A4 con la D16 Eagle di oro Con tre granate di soffimento, neutralizzazione bonus, soprattutto di granate a frammentare Wow Non ci giocavo da tantissimo, tantissimo tempo possedevo Sono sincero ragazzi, non ho giocato da tantissimo tempo Ah Le granate infamiche, questo iodino se lo scopre Uh uh, due, 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 giù Nooo E' morto pure Vabbè Vai su, su, su ragazzi Ma rimanete lì Ehi, come pensavi, buttarmi giù con Sì, mi ha buttato giù Da Da una troia Dev hyvä Vabbando Ehi, come pensavi Vabbè che W Gambo Ev built In mente Grazie a tutti. 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 Siete liberi voi da decidere cosa mettere o non mettere. Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.